Io oggi ho semplicemente riportato un fatto di cronaca e la realtà è la realtà. Per l'omicidio di Sharon ovviamente la cosa fondamentale è che non c'è più chiunque sia stato. Questa ragazza ai 33 anni che si affacciava alla vita, che stava preparando il suo matrimonio, evidentemente di chi è stato l'assassino si fa poco e quindi c'è da pregare per lei e da star vicino alla famiglia, al fidanzato che il frullatore mediatico ha adombrato come potenziale, sospetto, non andavano d'accordo. Poi stamattina Andrea fai giornalista, quando è uscito il fatto di cronaca che si tratta di un cittadino italiano, di nazionalità italiana con origini africane, che ha ucciso a suo dire senza nessun motivo, perché è uscito di casa con quattro coltelli volendo uccidere, questo è il fatto. Quindi io stamattina, come tanti altri organi di informazione, ho riportato intorno alle 10, fermato il sospetto, perché non sono né io né te né nessun altro a decidere se uno è colpevole, poi ha confessato dopo, però ha fermato il sospetto di origine africana di cittadinanza italiana, perché si tratta di un cittadino italiano, non è arrivato col barchino, col barcone o col canotto, è nato in Italia, quindi è cittadino italiano, evidentemente con dei problemi che ha avuto anche in famiglia, poi ho letto che viveva in una casa occupata di espedienti, fosse stato un cittadino di Ceglie, un cittadino di Milano, un finlandese, un australiano, un canadese, il fatto di cronaca sarebbe stato altrettanto drammatico e devastante.